Ciao a tutti, in questo video vorrei parlare di una mia esperienza, di una mia esperienza personale, un'esperienza fuori dalla coppia. Io sono stata in coppia per tanto tempo, sono stata sposata per diversi anni e poi il mio matrimonio è finito, si è esaurito, diciamo così. È necessario per venire fuori e lavorare anche alla fine di un amore, di un matrimonio, eccetera, un cambiamento. Il cambiamento prevede anche un cambio di amicizie, un rinnovo di amicizie. Non si può venire fuori da una situazione se si fanno le stesse cose, si frequentano le stesse persone. È così, è iniziata di nuovo la mia singlitudine, il periodo della seconda adolescenza, della seconda giovinezza, gioventù più che giovinezza, forse vissuta, una gioventù vissuta in modo più consapevole proprio perché è avvenuta in un'età matura. Succede che appunto si frequentano tante persone, si conoscono diverse persone e alcune hanno un vissuto simile al nostro, o altre hanno un vissuto diverso dal nostro. Ma questo per arrivare a cosa? Per arrivare al fatto che quando magari si è in coppia per tanto tempo, si è stata in coppia per tanto tempo, si sono fatte determinate cose, si è vissuto in un certo contesto, una certa situazione, sono frequentate alcune amicizie, diciamo. si dà per scontato, almeno questo è quello che è successo a me, si dà per scontato che comunque raggiunta, diciamo, l'età matura, così dovrebbe essere, si ha una propria esperienza, no? Si ha un proprio vissuto che abbiamo elaborato, no? Certe cose nel tempo che ci hanno portato a sapersi in qualche modo relazionare con le persone, no? Anche se poi è tutto soggettivo, però diciamo che comunemente certi aspetti della vita bisogna averli già affrontati, no? è necessario che siano stati sperimentati, no? E a me è capitato di conoscere uomini che, come donne, però adesso parliamo degli uomini, di uomini che mancano di una propria esperienza, no? Uomini che magari si sono dedicati solo al lavoro, oppure uomini che si sono dedicati solo alla famiglia, uomini che sono cresciuti solo in un certo contesto, ma non hanno avuto una crescita al di fuori, no? Qualcosa di personale, qualcosa di evolutivo. Tant'è vero che non si sanno relazionare. A me è successo di frequentare uomini che si comportano come dei bambini, ma non bambini, quel bambino, quell'io bambino che è sempre bellissimo, che fa piacere incontrare, che fa piacere relazionare, con il quale si fa piacere relazionare. Quel bambino che è insicuro, quel bambino immaturo, quel bambino capriccioso, quel bambino, diciamo, unilaterale, no? Che ha sperimentato la vita solo in un certo verso. E poi fa difficoltà, perché magari anche quando gli piace una donna, o si innamora di una donna, è incapace di avere un equilibrio, no? E qui parlo sia della persona che ha dedicato tutta la sua esistenza al lavoro, o quella persona che non ha saputo poi coltivare la relazione con una donna, no? Coltivare la seduzione verso la donna, il corteggiamento, l'attrazione, la condivisione. E quindi trovi magari uomini che sono impacciati o uomini che sono costruiti tutta una loro realtà che è solo loro, che pensano magari che debba andare bene così, no? Ti propongono una situazione, una relazione, ma fatta secondo i loro canoni, no? Dei canoni che sono, se vogliamo, terra a terra, no? Mi sembra una relazione dove un uomo magari è troppo bisognoso di affetto, magari invece un altro uomo è troppo bisognoso di sesso, magari un uomo ha bisogno solo di compagnia e quindi intraprende una relazione già in un modo sbagliato, così come le donne, no? Quelle donne che si innamorano di persone che non hanno significato, ma non perché non hanno significato le persone, no? Si innamorano di uomini che non gli danno praticamente nulla se non una parvenza di coppia, se non una parvenza di relazione e sono bisognose che io ho potuto vedere tante donne, tanti uomini, perché così anche gli uomini il bisogno di amore, di affetto, di sesso non è una prerogativa solo delle donne, ma è anche degli uomini, molto soli, una singletudine, così si può dire un essere single, ma sofferto, no? Un essere single che non ti ha cresciuto, perché o c'è il single che non vuole essere single e quindi è bisognoso di affetto, di attenzione, di una relazione di una donna o di un uomo e poi c'è il single che è arido, che è egoista, che non è capace a condividere nulla, no? Non è capace a espletare il suo amore, non è capace a stare con una persona, no? Perché è abituato a stare solo da solo, ha una centratura su se stesso, ma una centratura molto infantile, molto come di un bambino, no? Quando si pensa solo a se stessi. Trovo che non sia così facile trovare una via di mezzo, un equilibrio. Ecco, questa è una riflessione perché al di là, parlo delle persone mature, diciamo, al di là di quello che può essere stato il tuo vissuto in famiglia, all'interno di un matrimonio, in una convivenza oppure un singolo da sempre. Questo non ci deve fossilizzare solo su quel tipo di esperienza, no? dovremmo riuscire a essere il più completi possibili, no? A una certa età, una certa età che non vuol dire essere vecchi, però a una certa età passata, diciamo, l'adolescenza, passata la gioventù, il ragazzo o la ragazza, una maturità che ti faccia sentire sempre giovane, quindi non vecchio, ma consapevole, ma maturo, capace di saper godere delle cose belle, saper condividere le emozioni, ma nello stesso tempo con la testa e l'esperienza degli anni che effettivamente si hanno, perché è vero che l'età è un dato anagrafico per quello che può essere lo spirito, per quello che può anche essere se uno si tiene bene all'aspetto fisico, però è pur un dato e questo dato deve comunque racchiudere un'esperienza, un'esperienza di vita. Ciao ciao!